Musica Raggiunge il traguardo della pensione la colonna portante del centro di formazione salesiano. Il 19 dicembre ha salutato una colonna portante della scuola salesiana CNOSFAP di L'Aquila. Si tratta di Guido Dufrusine, il coordinatore del centro di formazione. Classe 1956 ha portato avanti per oltre 30 anni la scuola salesiana, intervenendo in maniera potente soprattutto nel periodo del post-sisma, quando si doveva ricostruire un tessuto sociale disintegrato, garantendo a decine di ragazzi di poter impariare un mestiere e una nuova vita scolastica. A Guido Dufrusine vanno anche le congratulazioni di Honda TG.